Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Fazio, 29 anni e vengo da Gangi. Nel 2010 ho conceduto il diploma presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Gangi e se dovessi scegliere di nuovo come per seguire i miei studi, sceglierei nuovamente questa scuola perché il percorso formativo che essa ne ha offerto me lo dà l'opportunità di acquisire da un lato una serie di competenze tecniche, in ambito prevalentemente economico-aziendalistico, giuridico e linguistico, dall'altro di acquisire tutta una serie di competenze trasversali, le cosiddette soft skills che oggi più diere sono sempre più ricercate dal mercato del lavoro. Mi riferisco alle competenze linguistiche, alle capacità comunicative e relazionali, alla capacità di sapere lavorare in un gruppo. Tutte queste competenze acquisite mi hanno poi aiutato a proseguire e a concludere almeno il mio percorso accademico. Infatti nel 2018 ho conseguito la laurea magistrale all'interno di un curriculum erogato interamente in lingua inglese e denominato Public Management presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Palermo e quest'anno invece ho conseguito un diploma in merito ad un master full-time in management del settore sanitario, biomedicale e farmaceutico presso la 24 Ore Business School di Milano. Cari ragazzi, il consiglio che mi sento di darvi per affrontare al meglio questo periodo di scelte è quello di provare e sforzatevi a capire e a sentire quelli che sono realmente i vostri interessi, le vostre ambizioni e i vostri desideri, trascurando magari anche quelli che possono essere i legami effettivi, oltre che magari delle notizie poco fondate e poco sicure. Condivido inoltre con voi anche dei traguardi che io, grazie ai miei percorsi di studio, ho potuto raggiungere di carattere anche nazionale. In particolare mi è stata conferita una menzione speciale alla mia tesi di laurea in materia di telelavoro e smart working presso l'Università degli Studi di Parma e quest'anno ho ricevuto invece un altro premio di laurea nazionale da parte dell'Associazione Bancaria Italiana. Colgo l'occasione per farvi il mio più sincero e caloroso in bocca al lupo e ne approfitto anche per poggere a tutti i miei ex professori che ho incontrato durante i miei percorsi di studio i miei più cari saluti. Cercate ragazzi di essere curiosi, di informarvi e di formarvi, perché per me istruzione è sinonimo di formazione e formazione per me significa dare forma ai propri percorsi di vita. Con affetto e bocca al lupo. Ciao a tutti!